Ebbene si ragazzi siamo arrivati qua nel Cestopini più grande d'Italia 104.000 gente da figli insieme a voi 3 nuove leggendarie, 3 nuove carte 5 sugi di 6 nuove carte Grazie a tutti. 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 Il 31 gennaio, quindi buon anno. Restate vivi perché dovete guardare questo video. Perché voglio fare un sacco di soldi un bel po', ne voglio fare un bel po', cazzo un bel po'. Vabbè basta, non c'ho più voglia, vi lascio 20 secondi a riflettere, ok? Chissà dove cazzo me l'avrà salvato sta registrazione, dove cazzo me la salva? Asi ho fatto stop? Asi ho fatto stop?